bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video iniziamo la settimana con un bel rimbalzo delle cripto valute soprattutto bitcoin rimbalza da dei livelli che erano delicatissimi dopo un super dump ieri verso la fine della giornata il classico stop hunting ragazzi quindi va giù si prende gli stop pamba rimbalza e se ne va l'apertura dei mercati asiatici ha dato bella linfa al re delle cripto che inizia questa fase di rimbalzo ma la domanda è bitcoin arrivato 54k arriva a riprende tutto quello che è la sua fase di alzista abbiamo chiuso il ciclo mensile è anche l'annuale possibile perché però faccio vedere oggi che cosa è successo nel mese di aprile oppure c'è ancora da temere questo è il rimbalzo che riprenderà i trend di lungo periodo di bitcoin oppure semplicemente si continua a oscillare lo vediamo in questo video ma prima di andare avanti ragazzi io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto lasciatevi un pollicione in su vi aiutate e come sempre ragazzi scrivetemi nei commenti quello che pensate vabbè allora sto scrivendo nel mio canale telegram tutta una serie di aggiornamenti di quello che ho fatto anche questa settimana da un'operazione in sul breve periodo che l'ho chiamata rescue satoshi rescue ragazzi perché era un'operazione andata diciamo stava andando male difficile quindi l'ho recuperata con delle tecniche di trading e vi faccio anche un video su questa cosa perché mi piace e ho pubblicato tutto sul canale telegram gratuito lo trovate in descrizione per un mesetto pubblicherò tutto quello che faccio per accompagnarmi in questa fase che ritengo essere ancora delicatissima ma lo vediamo in questo video quindi iscrivetevi ragazzi link in descrizione gratis telegram analisi quello che mi gira in testa e se vi piace qualcosa poi me lo scrivete nei commenti youtube invece per quanto riguarda il video di oggi ragazzi andiamo a cercare di capire che scenari si possono delineare nei prossimi giorni di bitcoin perché siamo alla fine del mese di aprile tutto è andato secondo i piani ad aprile ragazzi per quello che è stato il mio video dove vi dicevo quello che mi ha aspettato anzi facciamo una cosa vi pusho vi metto il link del video in questione in descrizione anzi no ve lo metto sulla mia testa e andatevelo a vedere allora l'ultima parte che manca è proprio il rimbalzino per portare bitcoin in aria accettabile chiudere il mese di aprile con la famosa candela rossa tutto sta andando liscio in questo momento per quella che era secondo me la visione migliore per la prosecuzione rialzista del settore cripto anche le altcoin vanno alla grande terimo va alla grande ragazzi proprio alla grande soprattutto perché regge contro questa fase di bitcoin quindi bisogna capire anche gli equilibri dei mercati ragazzi vedremo anche in questa settimana che ci sono dei dati enormi da guardare per quanto riguarda i macro indicatori sulle cripto soprattutto per la dominanza però non ci perdiamo ragazzi in chiacchiere la prima cosa da fare è andare a capire se questo rialzo di oggi è l'inizio del nuovo ciclo mensile e anche del ciclo annuale ragazzi oppure semplicemente un raccordo ok ragazzi quindi state attenti faremo un po di ragionamenti quindi sveglia prendetevi un caffè e soprattutto scrivetemi nei commenti cosa ne pensate perché ci diamo una mano ragazzi ricordatevi che sono previsioni sono analisi non è la palla di vetro col futuro ancora c'è qualcuno che non capisce questa cosa e scrive fesserie per non di un'altra parola nei commenti però ragazzi sempre meno rispetto a prima quindi questa è una cosa molto positiva vuol dire che il messaggio sta iniziando a passare allora vi faccio vedere quello che sono i grafici in questione iniziamo dal grafico ciclico classico di bitcoin contro usd è questa è la situazione ragazzi allora in settimana ho fatto il video aggiornamento in academy dove spiegavo che bitcoin era alle prese con una chiusura di un ciclo trimestrale non ne parlo mai dei trimestrali sul canale perché le cripto vanno seguite un po con dei degli zoom un pochettino più veloci rispetto ai singoli trimestrali è meglio utilizzare i singoli i cicli mensili perché sono troppo volatili per un ciclo di messare però oggi ne possiamo parlare il trimestrale in analisi ciclica ragazzi è il top del top dei cicli ok tre mezzi ovviamente allora in questo caso la struttura di bitcoin è esattamente questa perché da dalla chiusura di che cos'era questo febbraio quindi gennaio 2021 il mercato ha iniziato questa fase a tre cicli di cui quello di marzo è stato molto piccolo ragazzi perché ha chiuso il 25 di marzo poi da qui in poi mancava il terzo movimento a livello ciclico non è molto difficile da comprendere ragazzi perché sono tre mesi scusate allora tre mesi esclusivamente diciamo fatti così vedete 1 2 e 3 tra le altre cose questa struttura del ciclo trimestrale per la prima volta mostra il break del minimo del mensile precedente cioè bitcoin ragazzi ha fatto un mensile ribassista e non lo faceva da un anno circa quindi questa è una cosa molto importante perché il mensile ribassista e anche il segnale di chiusura di un ciclo annuale potrebbe essere chiuso il ciclo annuale si ce lo aspettavamo a marzo ha ritardato un mese nulla di anomalo perché parliamo di un anno quindi ragazzi potrebbe ancora dare difficoltà al mercato si lo vediamo oggi con una fase di raccordo però in questo momento se tutto fira liscio ragazzi siamo a cavallo perché il mercato poi si potrebbe proiettare nei mesi successivi a fare nuovi massimi e continuare la fase del ciclo dell'albing ok quindi ci spostiamo di nuovo a vedere la struttura ciclica per capire l'attuale situazione dove allora questa è la fase ragazzi quindi a livello ciclico ci siamo il break di questo livello del minimo di marzo configura un mensile ribassista e se è il mensile conclusivo dell'annuale tutto fila liscio ragazzi perché va va bene a me sembra un po poco un po troppo facile ve lo dico in maniera molto chiara e vi dico anche come mi sto preparando io quelle che sono le due situazioni che mi aspetto per aprire allora intanto per aprire quando abbiamo fatto il video dove vi spiegavo anche la candela mensile anzi vi faccio vedere di nuovo la candela mensile di aprile eccola ragazzi allora quando avevo fatto il video dove spiegavo la candela mensile in quella dio e lo scenario dicevo proprio che il mercato dopo aver fatto nuovi massimi sarebbe diciamo poteva scendere per far i minimi e chiudere in rosso però con un livello di prezzo non troppo distante dai prezzi di open che questo caso sono intorno ai 58 e 8 quindi anche se chiude intorno ai 55 54 56 insomma in questo frangente qui che lo vedete il mese di aprile tutto fila liscio ragazzi perché finalmente andiamo a disegnare una candela rossa che è una rossa che spezza questa fase rialzista verde una fase un pochettino estrema delicata troppo eccessiva invece così facendo prendiamo pausa da questo trend però ragazzi con un mese verde di aprile maggio cioè il mese successivo diventa importante perché potrebbe disegnare delle cose particolari cioè potrebbe in effetti maggio andare a tentare la fase ribassista subito perché potrebbe dire ok il mese chiude così poi io dopo di che vado giù tento di breccare magari fa anche un leggero brecco un doppio minimo e poi se ne risale il mercato no questo lo vedremo poi a maggio perché la situazione è un po delicata però per farvi capire che il mese in questione che sta iniziando probabilmente tra poco se qui ha chiuso credo di sì perché la candela di oggi fanno più 10 ragazzi quindi mi sembra una candela abbastanza difficile che venga riversata velocemente a meno di situazioni gravi ok quindi nel momento in cui ha iniziato questa fase qui il mercato dovrebbe poi andare a tentare i nuovi massimi ora il rimbalzo di bitcoin affronterà questa fascia di prezzo come fascia estremamente pericolosa questa qui ok una volta che arriva qui se ci arriva potrebbe secondo me ragazzi 1 2 giorni insomma non ci vuole niente qua 55 56 potrebbe andare qui a fare il pullback intanto troverebbe le due medie in questione questa volta le medie non sono state breccate come nei cicli precedenti perché erano dei break di chiusura ciclico qui invece il break è avvenuto molto lontano questo è un mensile ribassista ragazzi ok quindi in questo caso il mercato deve o iniziare una nuova fase ciclica oppure il trend è ribassista quindi questo è il discorso del dir bassista di breve ok parliamo sempre di breve periodo medio breve vedete perché ha fatto un trend di basso quindi se questo swing si ferma qui la probabilità che vada a fare una cosa del genere a maggio e aumenta ragazzi quindi fin tanto che abbiamo il rimbalzino tutto ok e qui ci siamo questo era atteso e non dobbiamo chiudere il mese di aprile troppo distante da questa fascia di prezzo va bene poi però dopo a maggio dobbiamo stare attenti a cantare vittoria perché non è così e lì dovremmo scendere nei cicli inferiori ragazzi a vedere se il mercato andrà a disegnare questo swing come nuovo ciclo quindi poi magari un eventuale ribasso si blocca per fare una cosa del genere allora possiamo cantare vittoria e qui abbiamo chiuso l'annuale se invece non è non fa così ma si blocca qui ragazzi questa fase poi magari di ribasso non ce la fa e il mercato fa una cosa del genere allora l'annuale sarà da chiudere al maggio esattamente questa la questione ragazzi quindi abbiamo 20 giorni secondo me dove siamo in bilico in questa forchettona e il mercato può decidere di prendere una strada anche un doppio minimo sarebbe buono però secondo me da qua ai prossimi giorni quindi fino a fine mese io non vedo grandi rivolte insomma cambi di direzione probabilmente il mercato tenterà di arrivare sui 55 56 magari ecco dovrebbe riuscire a farlo ragazzi però ricordatevi che non possiamo cantare vittoria in questo momento quello che su del ciclo annuale e quindi bisogna fare molta attenzione infatti anche a livello operativo ragazzi io stamattina ho già chiuso più di metà poco poco insomma 55 per cento che non era precisa la meta dei miei bitcoin nell'operazione e di breve perché erano riuscito a recuperare tutta la minusvalenza andare in profitto l'ho pubblicato sul canale telegramma e sono in trailing stop con l'altra parte che però terrò fortemente sotto i fari per domani circa ok vi do qualche chicca operativa però io faccio proprio un video dove vi spiego questa strategia quello che abbiamo fatto così insomma facciamo anche prima e poi quello che andrò a fare ragazzi è mantenere le mie posizioni così come sono nel medio è flat nel lungo periodo sono all'80 per cento e deciderò nei prossimi due tre giorni se addirittura chiudere ulteriori long di posizione per lungo periodo cioè chiudere un'altra parte di holding non perché ragazzi non penso che il mercato poi nel lungo periodo non continui a salire per la seconda fase del ciclo dell'holding ve appena detto però se mi fa un maggio che poi gira a ribasso l'unico punto di uscita lo darà entro pochi giorni ve lo dico proprio in maniera chiara io preferisco essere più leggero perché poi mi vado a ricomprare bitcoin magari più basso però l'idea di fondo è rischiare il meno possibile non speculare su questa fase quindi quello che faccio io non dovete copiarlo ragazzi perché io ho delle strategie dei trading plan che sono operativi da anni è tutto costruito è tutto delineato fino proprio all'ultimo secondo della dell'operatività quindi dovete iniziare a capire un po la differenza quindi non copiate i trader ma capite le strategie che è fondamentale questa cosa allora da un punto di vista ciclico bitcoin si trova di fronte a questa situazione questa è la sua aria di importantissima che sta dai 55 vedete fino ai 58 io non credo che chiuderà sopra i 58 e 59 aprile altrimenti i ragazzi non ci va a disegnare la famosa candela rossa perché se basso per 58 8 entro la fine di aprile il mese ritorna a essere non rosso ragazzi secondo me il mese aprile deve essere rosso che e deve essere rosso anche perché è meglio perché se fai invece di nuovo una candela verde poi il problema di maggio ritorniamo punto e a capo quindi allora in questo momento per un trend lineare rialzista tranquillo e felice per i prossimi mesi candela rossa ad aprile ok ragazzi candela rossa intorno ai 55 56 la chiusura perfetta di aprile ok così poi siamo belli tranquilli e ci spostiamo a maggio però ricordatevi che al momento se noi andiamo a prendere quello che il trend vedete di medio breve il mercato lo ha invertito con questa fase di bassista perché ha fatto un minimo inferiore al precedente perciò l'eventuale pool al rialzo questo movimento app ragazzi e se fa parte di questo trend non può che finire così ok se invece fa parte di un nuovo ciclo cosa che io penso e c'è un'alta probabilità che sia così ragazzi altrimenti vi dicevo maggio di nuovo problemi in questo caso maggio può essere entrambe le cose quindi non è detto che questo o questa inversione di trend possa diciamo dare gravi problemi a maggio perché potrebbe essere tranquillamente la fine del ciclo annuale perché ha chiuso un trimestrale ok questo è il concetto ragazzi un po complesso lo so però statemi dietro in questi giorni e ne usciremo con diciamo le ali spiegate intanto poi questa settimana andremo a a guardare anche quelli che sono i macro indicatori per quanto riguarda per esempio la dominance lo vedremo penso dopo domani ragazzi tutti i macro indicatori positivi ma soprattutto bitcoin ai livelli più bassi di dominance da sempre quindi mercato cripto floridissimo un annuale chiuso se l'ha chiuso magari in questo modo ragazzi è un capolavoro ed è molto rialzista perché bitcoin ha fatto un ribasso che non faceva intanto da un sacco di tempo giusto per farvi capire dai massi di bitcoin è andato giù del 27 28 per cento ragazzi quindi molto di più dei precedenti perché i precedenti erano fasi di bassissima anche questa che era stata pronunciata eravamo intorno ai 30 ok ma le precedenti vedete erano più piccoline ok quindi solo questa è una fase pronunciata come questa qui ragazzi ok in questo momento potrebbe aver chiuso i giochi e magari ripartire io sto attento come vi ho spiegato per questi mesi e poi si vedrà scusate per questi mesi per questi giorni due settimane circa perché un po anche th anzi mi ero dimenticato vi faccio vedere anche th adesso perché anche th ha un po' questa configurazione vedete in scadenza qui vicino cioè vicino al mese di maggio più o meno a metà in questa zona quindi potrebbe ancora che th tentare di fare poi la chiusura così che configurerebbe quello che vi ho appena detto con bitcoin ok ci sono una serie di ipotesi ovviamente sempre trend is your friend ragazzi in questo momento sul medio c'è troppa confusione quindi io sono flat per questo sul lungo sono long all 80 quindi va benissimo sul breve ho fatto una super operazione di recupero di cui vi mostro diciamo tutte le tecniche in un prossimo video è ok così si sta sul mercato that's it come dice il grande monti fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto maggio si riprende diritti oppure andiamo ad avere ancora problemi cosa ne pensate ciao a tutti i ragazzi